mi sono distratto un attimo perché vabbè dai andiamo avanti mi metti in dura prova attenzione perché le scale diventano un po difficili per la mia età e d'altronde non ce ne faccio più non c'ho più fiato non sono più un ragazzo bello come una volta come loro due questi due ragazzi qui ok se me le metto in console questi due no praticamente io posso screcciare in tempo reale perché sono lì ci sono lì ci come i dischi come vinili una volta ok dove sta il mixer dove il mixer quello piccolo quello che avete voi no 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 ok cambiamo console cambiamo ragazzi siamo al primo piano questo è stato l'ultima dance e noi scherziamo io sono alex angeletti questo è quello che trovate il gran buffet delle tavole ben organizzate con gli amici che tra poco stanno iniziando a cenare noi gli auguriamo in modo anticipato buona cena buon appetito buona degustazione e andiamo ancora avanti a scoprire altre sale intanto i cartelloni di protesta per fortuna qui al convento non si mettono quelli del sindacato vuol dire che le cose vanno bene alla grande come vanno le cose alla grande grazie che chi lo dice daniel pensavo babbo natale ok saluto allora ragazzi ci siete facciamoci vedere dalla dalla telecamera 3 2 1 grazie a tutti Grazie a tutti.